buonasera a tutti voi oggi andiamo a fare una ricetta con il filetto di maiale filetto di maiale pancetta e peperoso però prima di andare a vedere la ricetta solo a chiedervi ancora di iscrivervi al mio canale youtube e di questo vi ringrazio anticipatamente grazie 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 bene abbiamo finito la cottura del filetto al peperoso il risultato è ottimale un profumo eccezionale con con un'insalata di ralecchio rosso e con un buon bicchiere di vino rosso vi auguro buon appetito